Una offerta variegata che tiene insieme tutti gli aspetti della musica, da Rossini al Contemporaneo, passando per il Settecento fino alla musica elettronica, con numerosi appuntamenti che avvengono nei luoghi soliti, dal Teatro Rossini alla Chiesa dell'Annunziata, che ultimamente ha avuto un ruolo anche molto importante nella diffusione della musica, in particolar modo cameristica, nella nostra città, ma anche con momenti specifici come l'intitolazione ad Antonio Pallerini, etual pesarese dell'Ottocento del Salone Nobile di Palazzo Gradari, anche per rimarcarne la volontà di un utilizzo su varie forme d'arte e di cultura ma anche per ospitare momenti di danza, come avverrà con l'inaugurazione del 24 di novembre alle ore 17.30 e anche passando per la giornata di apertura gratuita del Museo Nazionale Rossini dedicata ai cittadini di Pesaro, ma in realtà ai cittadini della provincia e anche agli studenti di Castelato Rossini, quindi una possibilità di visita gratuita di questo straordinario museo ancora non del tutto, non abbastanza conosciuto anche dai pesaresi, mentre vorremmo che i pesaresi ne fossero i principali ambasciatori anche in vista della Capitale 24. Come conservatore Giochino Rossini di Pesaro, martedì sera avremo uno spettacolo molto bello, molto divertente che si intitola Smile. Smile, il titolo che abbiamo voluto dare a questo spettacolo, segnala proprio la volontà di, in questo momento così particolare, così difficile per tutti quanti, per certi versi anche triste la possibilità di strappare un sorriso, un sorriso come forma di speranza. Quest'anno la nostra Santa Cecilia è articolata in quattro quadri, che sono quadri legati alle famiglie degli strumenti più importanti, non più importanti, ma che hanno costituito nel loro essere una forma di orchestra, quindi l'orchestra dei sassofoni, l'orchestra di violoncelli, l'orchestra dei flauti e l'orchestra dei clarinetti. In ultimo, ma tra tante altre cose notevoli a segnalare, la giornata del 22 sarà anche l'occasione per riascoltare i brani vincitori del concorso di musica elettronica, concorso mondiale dedicato alla memoria di Giorgio Giordani, che si è tenuto nel giugno scorso, nel 2023, e si potranno riascoltare a due ore definite, ingresso libero in sonno sfera, i tre brani vincitori e i due brani che hanno ottenuto una menzione speciale, e questo ci aiuta anche a raccontare la prossima edizione del premio Giorgio Giordani, che è stato fatto proprio, condiviso anche dal Santa Pompidou di Parigi, dall'IRCAM, per cui sono già arrivate oltre 140 lavori che verranno analizzati da giurie pesaresi, da giurie di Parigi, per arrivare poi nel mese di marzo, una fase finale a Pesaro, che porterà anche un doppio concerto iniziato a Pesaro, che verrà poi replicato a Parigi, quindi la giornata di Santa Sicilia, abbiamo pensato che fosse anche quella più adatta per raccontare questa storia molto importante e che entra al pieno titolo tra i grandi eventi e le grandi opportunità della capitale italiana 24.